Buonasera raga, qui è Commander in Video, bentornati in mobili sul canale e quest'oggi siamo qui ritornati con un nuovo episodio di Fortnite Salva il Mondo. Se vi siete persi l'episodio precedente dove abbiamo fatto l'obiettivo Linear Notes, il video ve lo lascio in alto a destra nelle schede. Prossimo obiettivo è ancora, dobbiamo schierare 7 altoparlanti e far suonare Steel Walls per cacciar via la tempesta in un zona 40. Oh, qua dice che possiamo farlo in tutte. Allora proviamo. Facciamolo in Starry Drive Detail, almeno facciamo fuori anche il mini boss. Beh, per ora non abbiamo trovato roba grande, come ad esempio Smasher o altre cose del genere. La Roxx è pronta e allora andiamo. Ok. Tanto ho già schierato un altro tablante. Oh, qua c'è un altro? Oh, qua c'è un altro? E siamo a 3. 4. Non è stop, Rock, è venuto a te. Non pensavo che potrei fare un altro tablante di Steel Walls più di più che ho già fatto. Oh, sì, è vero, devi andare a riuscire. Ce ne sono solo 4. Vabbè, lo faremo... In 2 istituti separate. Non mi piace molto la posizione, però. e ha nemici di fuoco smasher nemico ho mancato morte mi sa quando spawna il boss quanto ho intenzione di spawnare il boss un altro smasher nooo lo smasher non gli faccio danno è vulnerabile alle cappole molto con un colpo solo e non ha danneggiato nulla un altro smasher mi sa che sto arrivando un altro smasher 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 34 hp aveva il muro un altro smasher un altro smasher un altro smasher ce la siamo vista brutta peccato per per l'obiettivo della questline abbiamo scherato solo 4 altri 3 li farò da solo come sempre vabbè 4 settimi di obiettivo fatto il resto lo farò off camera come sempre e ci rivedremo direttamente per l'obiettivo Steal Icarus dobbiamo fare una missione di Red Lightning come dice qua e poi ci sarà il fun comincierà il fun vabbè comunque ci rivedremo per il prossimo episodio con Steal Icarus Red Lightning